Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare come sempre come al solito vi ricordo di seguirmi su Instagram al link che trovate qui sotto in descrizione. Signori, alla fine è successo. Nonostante le varie dichiarazioni da parte di Disney che diceva che Black Widow sarebbe uscito obbligatoriamente solo al cinema, si sono messi finalmente l'animo in pace. E hanno annunciato oggi una nuova data del film che è stato rinviato un'altra volta, questa volta il 9 luglio 2021, ma questa volta è stato già annunciato che oltre ad uscire al cinema, uscirà anche su Disney Plus in Premium Access, così come era successo con Raya e Mulan, e quindi verrà venduto in più sulla piattaforma al costo di 21,99€. Finalmente, finalmente questa spero che sia la data finale, perché questo film sta venendo rinviato da un anno, ha già cambiato 5-6 volte la data e non ne posso più. La hype mi stava calando, mi si stava un po' risvegliando con l'avvicinarsi di maggio, ma come previsto Disney è deciso di rinviarlo, ma questa volta, ripeto, spero sia la data finale. Spero che comunque per luglio la situazione sia migliorata notevolmente e che i cinema saranno riaperti, perché voglio andarlo a vedere al cinema, ma se le cose purtroppo non dovessero migliorare, lo vedrò molto volentieri su Disney Plus, basta che me lo fanno vedere, perché veramente non se ne può più. E vista la sua nuova data di uscita, come era scontato, è stato anche posticipato a cascata Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Annelli, che doveva uscire precedentemente l'8 luglio, quindi il giorno prima della nuova data di Black Widow. Il mio terrore era che occupasse lo slot di The Eternals di novembre, facesse slittare di nuovo tutto a cascata, ma fortunatamente Disney ha fissato la data al 3 settembre 2021, quindi uno slot nuovo che non va a far muovere altre pellicole. Quindi direi a questo punto di vedere il calendario aggiornato di questa fase 4 dei Marvel Studios, così ci infiliamo anche dentro Loki, che è stato ufficialmente fissato a giugno qualche mese fa. Dunque, il 2021, dopo essersi aperto con due brevi episodi di Marvel Legends, che abbiamo scoperto essere in realtà dei piccoli trailer su nuovi prodotti che vedremo della Marvel, è stata la volta di WandaVision, che abbiamo già visto in tutta la sua integrità. Il 19 marzo, ovvero venerdì scorso, è partito invece The Falcon e The Winter Soldier, con il primo episodio, e tutta la serie durerà fino più o meno a fine aprile. Subito dopo sarà la volta di Loki, ufficialmente fissato con il primo episodio all'11 giugno 2021. A maggio non dovremo avere niente, questo perché Disney ha fissato su Disney Plus l'uscita della serie di Star Wars The Bad Batch, e quindi molto probabilmente non ha voluto accavallare due suoi prodotti di punta. Subito dopo Loki sarà la volta di Black Widow, che sappiamo da oggi uscirà il 9 luglio, e poi dovremo avere la serie animata di Marvel What If, che per ora ha un generico estate 2021, ma credo che a questo punto occuperà tutto lo slot di agosto. Sarà poi la volta di Shang-Chi, fissato anche questo oggi al 3 settembre, e poi a ruota dovremo avere le serie TV live action su Disney Plus di Miss Marvel e Occhio di Falco. Anche queste non hanno una data fissa, ma un generico autunno 2021. Gli ultimi due prodotti dei Marvel Studios che vedremo quest'anno saranno invece The Eternals, o Eternals dato che gli hanno tolto l'articolo, fissato al 5 novembre 2021, e poi il tanto atteso Spider-Man 3, fissato per il 17 dicembre 2021. Passando poi al 2022 e al 2023, fortunatamente al momento le cose sembrano non essere cambiate, quindi ve lo dico giusto a livello informativo, dovremo avere le serie TV live action di Shulk e di Moon Knight a inizio 2022, poi il 25 marzo l'attesissimo Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness, poi la serie TV di Secret Invasion, Thor, Love and Thunder, il 6 maggio 2022, Black Panther 2, l'8 luglio 2022, la serie di Ironheart, il film di Blade, Armor Wars, Captain Marvel 2, fissata l'11 novembre 2022, lo speciale di Natale dei Guardiani della Galassia, e poi nel 2023, I am Groot, Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, Guardiani della Galassia 3, anche questo l'attendo tantissimo, e finalmente il primo film sotto il marchio dei Marvel Studios di Fantastici 4. Quindi ragazzi, queste erano tutte le prossime date complete di tutti i prossimi prodotti su Disney Plus e al cinema dei Marvel Studios, e a questo punto capisco anche perché non avevano ancora mostrato un trailer di Shang-Chi, dato che sarebbe dovuto uscire tra pochi mesi, tutti si aspettavano il trailer Super Bowl, lo stesso attore protagonista del film lo affendeva, ma non è stato pubblicato. Direi quindi a questo punto che sì, un trailer esiste, ma secondo me non lo vedremo ancora a brevissimo. Tra l'altro, non c'entra niente con i Marvel Studios, ma volevo citarvelo, Disney ha posticipato altre pellicole, tra cui Assassino sul Nilo, o Free Guy con Ryan Reynolds, ma soprattutto ha annunciato che l'Evection di Crudelia Demon, protagonista Emma Stone, uscirà il 28 maggio 2021, in contemporanea al cinema e su Disney Plus, ma questa volta con accesso premium, anche questo, quindi pagando 21,99€, e invece Luca, il nuovo film della Pixar ambientato in Italia, uscirà il 18 giugno 2021 su Disney Plus, ma questa volta gratis, con un abbonamento normale e senza spendere in più. Cosa che, ripeto, anche questo vorrei vederlo al cinema se possibile, ma piuttosto che non vederlo e vederlo rinviato per mesi e mesi e mesi, tanto vale che lo vediamo, tanto state pur certi che Disney ci guadagna anche se lo fa uscire su Disney Plus, un po' come è accaduto con Soul. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commentino qui sotto, se andrete a vedere Black Widow al cinema sia aperta, come spero, o se lo vedrete comunque su Disney Plus, se siete contenti che uscirà anche su Disney Plus, è una notizia che sinceramente attendevamo da un po', avrei preferito che uscisse a maggio per farlo uscire su Disney Plus, se almeno non dovevamo attendere ancora altri mesi, ma almeno sappiamo che dal 9 luglio non dovrebbe più spostarsi. Comunque fatemelo sapere con un commentino qui sotto, mi raccomando, lasciate un mi piace al video se vi è piaciuto, lasciate un non mi piace, non vi è piaciuto, va bene uguale, condividetelo sui vostri social, e noi come sempre, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!